Buongiorno amici, un saluto da Silvia che sta godendo di questi giorni in compagnia di mamma e papà e fa molti lavori di casa, tante telefonate, molti contatti, anche con videochiamate. Se comunque avete bisogno, conoscete il suo numero, lei è disponibile anche al telelavoro. Un abbraccio a tutti e un sorriso da Silvia. Grazie.